Una vasta operazione antimafia denominata in codice fiume è stata messa in atto a Palermo. Cento agenti della DIA hanno eseguito 17 ordinanze di custodia cautelare con le accuse di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti e distorsione. Tra gli arrestati figura anche Guidospina, indicato dagli investigatori come il capo mafia dello ZEN. Numerosi arrestati gravitano nel quartiere, uno dei più degradati della periferia occidentale della città. In particolare Guidospina, 49 anni, ritenuto responsabile della famiglia mafiosa, è accusato di aver tirato le fila di un basso traffico di stupefacenti nel quartiere e di aver ordinato numerose estorsioni sia nei confronti di esercizi commerciali sia ai danni degli abitanti dei cosiddetti padiglioni dello ZEN. Nel corso delle investigazioni è emerso come l'abitazione Villa dello Spina una vera e propria roccaforte dotata di sofisticati sistemi di sicurezza fu un gesto da vero e proprio supermercato della droga all'ingrosso dal dettaglio. Acquisto e venta di grossi quantitativi di stupefacenti, cocaina e hashish, compresa la preparazione e il taglio del confezionamento. Una perfetta catena di montaggio dove tutto il nucleo familiare dello Spina, nel solco della più classica tradizione mafiosa palermitana, era coinvolto compreso i minori della famiglia spesso utilizzati quale diversivo per facilitare i viaggi finalizzati all'approvvigionamento di partite di droga. La cosca di Spina non si occupava solo dello spaccio di cocaina ma anche di imporre il pizzo ai commercianti, agli imprenditori e anche a chi occupava le case popolari nei padiglioni dello ZEN. Un obolo di 5 euro a settimana in cambio di acqua e pulizia. Spina, pluripregiudicato per droga e mafia, era agli arresti domiciliari per motivi di salute. Le microspie, piazzate dagli uomini della DIA, hanno però accertato che stava bene. Adesso Spina è in carcere al 416bis.